E' iniziato il countdown per Aperi Give che avrà luogo venerdì 22 giugno alle ore 19 presso il complesso monumentale di Santa Sofia nel Palazzo Innovazione a Salerno. Aperi Give è un evento benefico ideato da Aurelio Viscusi e patrocinato dal Comune di Salerno che ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare in modo concreto progetti umanitari. Un format giunto alla sua seconda edizione che concilia la semplicità di un aperitivo con l'efficacia di un'azione dell'immenso valore umano e sociale. I proventi di quest'anno saranno interamente devoluti al Vis Volontariato Internazionale per lo sviluppo che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e che sostiene in modo continuativo bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità. Tanti saranno ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e del web che hanno deciso di sposare la causa. L'attrice Simona Cavallari, il maratoneta pluricampione del mondo Giorgio Calcaterra, gli attori Massimiliano Gallo e Shalana Santana e la web influencer Valeria Angione.